si ma una non se ne fanno non te la scambiano ti vale tipo come uno stack di mala si quelli sono i paragoni che fanno tipo 30 ragazzi avete voluto troppo alto che su battle royale ragazzi vi muto un attimo perché non riesco a sentire niente che cos'è Cos'è questo rumore? C'è la carne? Ok come vuoi? No ragazzi non è colpa vostra però c'è un rumore che mi intera nella fo... Non lo so, si è buggato il rumore Il fetore si è buggato Luis Anche È scorreggiato, fa schifo Ok fai tanto qui, faccio una kill e poi stacco Cento! Alza la testa, cornuto Vamos, 50 V-Buck Ho scenduto da mio cugino eh, aspetta mostro il lobby bro Io sono due cento uomo Capito? Mamma mia! Eh, scambio solo tutti i bulloni Da 147 metri Tu dimmi quante carte ne devo dare, io ce le do E invitami Che significa se ho usato questo gioco? Preparati L'altra volta facciamo con un mio amico Cioè con un ragazzo conosciuto per caso Che siamo amicissimi Abbiamo fatto così Ma facciamo finta che qui c'era Abbiamo fatto finta che il bug delle porte esistesse ancora E abbiamo scambiato là Ma dove vai? In serve i superstiti C'è andando? Ok Ma cosa è questo rumore di paracadute? A me mi sembra che si è buggato il gioco Fram mi dispiace ma per la quantità non ti droppo in faccia questa volta Tanto vedi che gli stack non si riescono Eccolo No dopo anche da no hai fatto fra e trappello e trappello e più ciò la sascia è uguale più c'è uguale è uguale è l'amplificatore c'è l'hai ancora schierato bravo 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 più posizionato anche qualcuno al 130 si si sto vedendo le trappole a cassa al 130 questo è un attimo ah un attimo vabbè fra allora dovevo fare un scambio fra devo uccidere gli ultimi tre gli ultimi tre gli ultimi in safe porca di quella puttana no ragazzi aveva dato messaggio vocale scusate aspetta si stai uccinando il cane che si vanno i piedi attenzione oh cazzo da me allora per quanti stac avevamo detto che mi dai ucciso con la troppola ucciso con la troppola che culo mi dai 10 sac di fibrosa no perché ha attivato lo scudo ciao no non lo volevo fare volevo scambiare aspetta no questa la vinco raga questo la vinco secondo me questa la vinco no ti ho appiazzato giusto qualcosa arrivo dai scambiamo vieni qua allora che mi dai per 10 stack scaglia buia me lo dai uno stack eh il van dai dai eh va è 10 stack su 10 stack gli ultimi tre ultimi tre raga ultimi due andate a clicco la trappola non ci credo trappola io non ho i permessi qua non posso bigliare stanno entrando oh ma sempre trovo al stesso lato entra ucciso uno smasher non è morto sai ti avevo detto di non avviare un gatto ti stai rovinando le trappole te lo dico questo è un pure questo è un pure esempio su come rompere la difesa ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ha vinto raga